Assessore Carvelli, un po' di problemi nelle scuole con la riapertura dai termosifoni, ci sono stati diversi problemi. Voglio dire, avete risolto? Sì, siamo quasi sul punto di avviare le ultime due scuole che erano rimaste un po' indietro. Una per problemi tecnici legati alla conduttura perché c'era una tubazione che doveva essere sostituita e sarà fatta tra oggi e domani. Sto parlando della scuola di via Calabria a Papanice. L'altra scuola è quella di Pizzuta in cui andava sostituita la caldaia. C'era la caldaia che era praticamente inutilizzabile e so che ci stanno lavorando per montarla. Anche questa tra domani e dopodomani penso che sarà completata e quindi anche questi impianti di riscaldamento saranno avviati normalmente. Nelle faccia il riferimento a Pizzuta ci sono pure i rifiuti, una situazione veramente di degrado. Anche lì state lavorando? I rifiuti li stanno portando via, sì. Ieri ho chiamato su segnalazione di alcuni consiglieri comunali che si sono anche loro resi partecipi disponibili a questa segnalazione. Quindi praticamente li stanno portando via in questi momenti, in questi minuti. È stata chiusa la scuola di Vittorio Alfieri per due casi, è partita la sanificazione? La sanificazione era già stata fatta precedentemente, quindi adesso ci sarà tutta l'iter previsto dal CTE, dal Comitato Tecnico Scientifico, per quanto riguarda il nuovo riavvio dopo la scoperta di questi due casi che ci sono stati. Quindi sarà rimesso tutto quanto in sicurezza l'impresso scolastico. Quindi come delizia scolastica vi state interessando di fare in modo che per i ragazzi, per i bambini, per gli studenti delle scuole medie ci sia un sistema di tranquillità per quanto riguarda, quindi una tutela della loro salute? Sì, credo che sia la prima cosa da tenere in considerazione, perché innanzitutto la salute, poi sì, certamente saranno messe in campo tutte quelle situazioni, quelle disposizioni che tutelano la salute dei ragazzi e degli insegnanti. Mi perdoni, ma come mai non ci avete pensato prima? Non ci abbiamo pensato prima perché c'è stato un problema proprio contingente che è legato al periodo del Covid che abbiamo subito personalmente e poi l'alluvione che ci ha un pochino messo fuori rotta. Certamente noi appena è stato possibile siamo intervenuti, ma anche con qualche giorno di ritardo, però abbiamo cercato di recuperare in questo frangente tutte quelle situazioni che erano veramente disastrose per gli impianti delle scuole. Quindi adesso piano piano cercheremo poi anche di intervenire nella manutenzione degli impianti per rimetterli a punto. Grazie a tutti.